L'ARPC di Francesca, bentornati a casa mia e bentrovati nella mia cucina. Federico Fellini diceva che la vita è una combinazione di magia e pasta, ecco perché oggi metteremo le mani in pasta e la magia la farà per noi, l'impastatrice HowStyle che trovate da ARD. Bella, compatta, leggera con un design accattivante, un utilissimo timer e un display luminoso che vi accompagnerà passo dopo passo per decidere le velocità di impasto e il tempo. Facile da pulire, sarà un piacere mostrarla in cucina e soprattutto averla a portata di mano. Tre accessori, l'uncino per impastare pane, pasta, biscotti e dolci, tutto a base di farine. La frusta per montare panna, uova, burro e quella per la preparazione di impasti morbidi come degli ottimi hamburger. Impastatrice HowStyle al lavoro, mettiamola alla prova. Semola, uova, un pizzico di sale, velocità 2 per 5 minuti circa e l'impasto per la vostra pasta all'uovo è pronto. Io ho preparato le pappardelle, spazio alla vostra fantasia. Cambiamo accessorio, velocità 3, aggiungiamo della carne tritata, uova, pan grattato, formaggio grattugiato e l'impastatrice HowStyle ci aiuterà a creare la base per delle ottime polpette o gli hamburger che piacciono tanto ai nostri figli. E dulcis in fundo, cambiamo accessorio, montiamo gli albumi velocità 4, aggiungiamo i tuorli, il mascarpone e in pochi minuti la crema per il vostro tiramisù è pronta. L'impastatrice HowStyle la trovate da Hard, una buona occasione per dimostrare che oggi avere le mani in pasta è più pratico, divertente, conveniente e soprattutto gustoso. Grazie a tutti.